Il cibo per la salute deve essere fresco, come stanno tutti gli scienziati, senza additivi, senza veleni. Una conversazione con Vandana Shiva, scienziata e attivista, e con il professore Franco Berrino. L'evento è stato ospitato da Villa Mausolea, sede dell'Associazione La Grande Via, che si trova a Soci nel comune di Bibbiena e quindi nell'Alto Casentino. Un incontro per parlare di cibo e di come il nostro cibo, quello che noi mangiamo, ci può permettere di convivere bene con l'ambiente che ci circonda. Mangiare bene significa anche salvare la terra, mangiare bene significa ridurre la distruzione della terra da parte dell'agricoltura industriale, significa proteggerci anche dai gas serra. Ma noi raccomandiamo semplicemente quello che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Basiamo l'alimentazione quotidiana su cereali integrali, su legumi, su verdure, su frutta, comprese la frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle. Questa deve essere la base dell'alimentazione dell'uomo, che qui è l'alimentazione mediterranea tradizionale. Una volta gli italiani mangiavano bene. Le tre grandi crisi che l'umanità deve affrontare, prima di tutto la malattia del pianeta, il 75% delle malattie nel mondo derivano da un sistema chiamato agricoltura industriale. E ovunque i piccoli agricoltori si trovano in difficoltà, tutti i tre problemi si possono affrontare attraverso la diversità e la produzione locale.